isolante fissativo diluito 1 a 50 per cento d'acqua un bel diritto va in profondità e non fa pellicola l'isolante è importantissimo eh? l'isolante è importantissimo ma parecchio usato a questo passaggio soprattutto sui decorativi questo qua se dai il primus poi non fa corpo su una parete senza fissativo ma poi in generale comunque serve questa mazzocchetta però non c'è una mazzocca si ci sta mazzocca però questo pezzetto i vari boccardelli e lei va a mani da questo? no quello piatto senza mani questo è un mura severa si vediamo che gli passi il primus quello taglielo un poco diluito capito? così fa un po' di spessore grazie 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 grazie